Ci occupiamo professionalmente. La satira è il giusto mezzo per veicolare messaggi che ci stanno particolarmente a cuore e di grande attualità, come la sicurezza sul lavoro. Parla con grande soddisfazione di questa ottava edizione Oscardo Severi, patron della SEA Gruppo SRL, promotore dell'evento. Un'edizione di livello elevato per partecipanti e per giuria, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito di questo tema così importante. Siamo molto soddisfatti quest'anno, siamo particolarmente soddisfatti perché, come spesso si dice, ma questa volta è particolarmente vero, la qualità e la quantità delle opere è stata veramente entusiasmata. C'è stato poi quest'aspetto della giuria, la composizione della giuria, ha visto la partecipazione dei principali nomi carismatici della satira italiana, da Giuliano o da altri per non sminuire nessuno, comunque il livello era quello. Avevamo qualche perplessità sul fatto che il tema fosse abbastanza specialistico, non perfettamente coglibile dai partecipanti, eccetera. Anche lì invece tutto è andato oltre le previsioni, perché il tema è stato affrontato da moltissimi autori, da moltissime opere nel modo giusto e con lo spirito giusto. Tema di grande attualità, quello della sicurezza sui posti di lavoro, nei pensieri di tutti ancora la tragedia della Thyssen Group e la cronaca locale, che nei giorni scorsi ha registrato anche a Fano un tragico evento. Ad oggi ancora purtroppo si muore per il lavoro e di lavoro. Sì, purtroppo è drammaticamente attuale, anche le nostre cronache locali purtroppo a volte ce lo ricordano e Cartonsea ha il merito di, come dire, attraverso la satira e l'umorismo, di fare una riflessione seria, per certi aspetti anche molto politica, sul tema della sicurezza nel lavoro, senza da un lato cedere al cinismo e dall'altro senza adagiarsi sull'ipocrisia. L'edizione di quest'anno ha un nuovo contenitore, uno spazio cittadino tra i più belli, che sta vivendo, grazie alle iniziative delle associazioni che organizzano eventi e mostre, una nuova vita. Siamo molto contenti, molto orgogliosi di ospitare Cartonsea quest'anno, perché appunto il bastione è certamente un posto molto bello, non è un posto convenzionale per ospitare mostre, ma questo è il valore aggiunto, nel senso che è un posto vivo, è un posto vissuto, pertanto ci sarà gente che assisterà agli eventi, ci sarà gente che verrà per la mostra e questo scambio è appunto quello che creerà la sinergia più bella, sia per la mostra che per il bastione stesso.